E' arrivato il primo colpo autunnale di mercato della Nissa. Si chiama Faramarna, di nazionalità portoghese, ma nato in Guinea. Dopo aver superato la concorrenza del Napoli United, allenato da Diego Armando Maradona Junior e di alcune società di Serie D, il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma ha perfezionato l'ingaggio della prima punta portoghese classe 99, proveniente dallo Zurich City. Fisico possente e abbinato anche ad un'eccellente tecnica. Faramarna comincia a giocare a calcio all'età di 17 anni, con una squadra giovanile parigina nel 2017. Cinque mesi dopo il passaggio al Parigi, squadra che milita nella Serie B francese, poi un'altra importante esperienza con il Saint-Geneuve e in ultimo l'esperienza con la squadra B del Monaco, in cui ha militato per ben tre stagioni. La scelta è arrivata dopo un periodo di prova, nel corso del quale l'attaccante ha dimostrato grandi qualità. Marna è rimasto colpito dal progetto Nissa e dalla bellezza dello stadio Tomaselli, che sarà a breve la casa dei biancoscudati, ma anche dal calore dei tifosi. Già domenica, in occasione della trasferta di Miss Ilmeri, sarà a disposizione del tecnico Lesso Sferrazza. Sono molto contento di essere arrivato qui alla Nissa. La scelta è arrivata dopo che il mio agente mi ha convinto nel sposare questo progetto, di cui mi sono innamorato soprattutto del nuovo stadio e soprattutto del calore dei tifosi.